Questa vittoria ci dà sì una carica maggiore ma anche quell'equilibrio che ci fa capire che partita dopo partita si deve crescere, si deve provare sempre a dare il massimo e si deve dare continuità affinché questa vittoria sia poi quel carburante che ci possa far raggiungere gli obiettivi con una certa facilità. La bravura deve essere quella di rimanere con grande umiltà sul pezzo, siamo in una zona di classifica che determina sicuramente non l'obiettivo da noi prefissato inizio stagione, dobbiamo lavorare, continuare a migliorarci e spingere sempre sul massimo che possiamo dare a ognuno di noi. Questa squadra è una squadra che ha una sua solidità ed ha una sua forza di collettivo, mi sembra che siano facendo molto bene, li abbiamo studiati, abbiamo provato come spesso succede a capire se questa squadra ha qualche difetto per metterlo in mostra. Mi aspettavo che questa squadra stesse in questa classifica, onestamente credo che le neopromosse quasi sempre nel primo periodo hanno qualcosa in più, non fosse altro per il fatto che si confrontano con una nuova realtà e provano a dare il meglio di se stessi. Come spesso però dico, alla fine i conti si faranno a classifica acquisita a maggio, adesso credo che siano tutte classifiche virtuali, le posizioni di classifica sono tali che possono farti stare su quel saliscendi emozionale, ma alla fine il lavoro, i valori delle rose vengono quasi sempre fuori.